nel caso in cui questo raccoglitore per olive vi dovesse interessare nel caso in cui siete interessati all'acquisto di questo modello contattateci telefonicamente al numero 0827 42457 oppure inviateci un whatsapp allo stesso numero lo stesso numero risponde anche ai messaggi whatsapp in qualità di rivenditori volpi possiamo proporvi questo abbacchiatore al miglior prezzo attualmente sul mercato non esitate a contattarci per qualunque tipo di informazione un'altra macchina che farmacia agricola vi propone sempre della volpi si chiama super power anche questa macchina potete acquistarla semplicemente telefonando al numero che trovate in alto il super power è una macchina molto interessante perché è una macchina che io definirei di potenza che cosa significa è una macchina dotata di un motore da ben 48 volt un motore estremamente energico che da una forza d'urto che trasferisce una forza d'urto e d'impatto ai rebbi che non si trova in nessun altro tipo di macchina questo permette di raccogliere olive anche molto verdi olive anche in fase di maturazione o olive che normalmente è difficile raccogliere quale per esempio può essere la canino o altre varietà di piccola dimensione e tenaci alla raccolta il super power così come l'essenza è caratterizzato dalla presenza di una testa inclinata movimento alternato sempre sul piano orizzontale una trasmissione con ingranaggi elicoidali in metallo estremamente robusta ed all'interno un motore da ben 48 volt alimentato da un convertitore di tensione anche in questo caso l'asta telescopica si aziona attraverso lo sgancio che troviamo qui in alto e anche in questo caso l'asta telescopica è dotata di questa sagoma che ne impedisce la rotazione sul piano orizzontale il super power 48 volt si collega ad una batteria di tipo 12 volt standard quindi batteria di tipo automobilistico con il polo positivo polo negativo che viene poi la cui tensione viene poi convertita attraverso questo convertitore di tensione a 48 volt e che permette a questa macchina di erogare più potenza e più prestazioni in fase di raccolta il convertitore si collega con questo cavetto con questo connettore al cavo il cavo è lungo ben 15 metri quindi vi permette di lavorare in maniera estremamente agevole si collega con il connettore alla macchina il cavo è dotato di un sistema antistrappo e di interruttore on off sull'impugnatura impugnatura ergonomica e estremamente comune la cosa interessante di questa macchina è comunque il peso nonostante il motore particolarmente potente di 48 volt ha un peso tutto sommato molto contenuto siamo su due chili e mezzo della macchina nella versione con asta telescopica questo vi permette di lavorare anche su piante sostanzialmente alte senza affaticare le braccia e con un ridotto numero di vibrazioni particolare caratteristica di questa macchina è come avete visto prima sul convertitore di tensione la presenza di due velocità una velocità standard per la raccolta classica una velocità maggiore per la raccolta rapida che permette di azionare la testata su due livelli di velocità di impulsi 950 watt di al minuto oppure 1050 quindi una velocità di lavoro di tutto rispetto quello che piace molto di questa macchina è l'energia con cui raccoglie le olive sappiamo bene che talvolta alcune varietà hanno necessità di una maggiore forza sferzante di una maggiore forza sferzante per poter essere raccolte ecco il super power in questo caso è una macchina perfetta per poter agire su quelle varietà che hanno bisogno di più energia durante la fase di raccolta come per le altre macchine se anche questa vi interessa potete tranquillamente contattarci al numero telefonico che trovate qui in alto per poter effettuare l'ordine questa è la macchina perfetta per chi ha anche qualche centinaio di piante di olivo in quanto associa alla robustezza della macchina una straordinaria durabilità è una macchina che si addice al professionista e non è una macchina molto interessante perché si riesce ad acquistare ad un prezzo non particolarmente alto nel caso in cui questo raccoglitore per olive vi dovesse interessare nel caso in cui siete interessati all'acquisto di questo modello contattateci telefonicamente al numero 08 27 424 57 oppure inviateci un whatsapp allo stesso numero lo stesso numero risponde anche ai messaggi whatsapp in qualità di rivenditori volpi possiamo proporvi questo abbacchiatore al miglior prezzo attualmente sul mercato non esitate a contattarci per qualunque tipo di informazione Grazie a tutti Grazie a tutti.